Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai ASMR. Ciao, questa sera come mi hai richiesto? Ti faccio un bel make up di carnevale. Tu a cosa avevi pensato? Avevi qualcosa in mente di particolare? Creatura? Ok, ho capito. Ah, classico, insomma. Bella idea. Ok. Beh, non si può far tutto, cioè nel senso che devi scegliere tra queste dieci cose che mi hai detto, vero? Lo sai, giusto? Ok. Ah, ok, cercare di fare un mix tra queste cose. Su TikTok l'hai visto? No. Ah no, io in questo periodo non ho proprio visto video di ma carnevale. Sì, beh, effettivamente i miei per te sono tutti gatti gibu. Sì, effettivamente dovrei seguire più la scia del make up. Ehm, effettivamente non c'è tutti i torti. Va bene. Allora direi che si può fare per combinare tutte queste cose che mi hai detto. Potremmo fare una base normale, un po' cute. Poi potremmo fare una vera e propria maschera, cioè con la forma della maschera, quella tipo veneziana, classica, no? Non quello da medico della peste. Quella normale, ok? Però la facciamo a ruvalino, giusto? Volevi così, ok? Però ci possiamo mettere un po' di glitter e potremmo fare per rendere tutto più prezioso, prezioso. Con questo pennellino micro potremmo fare delle decorazioni dorate. Sì, ovvio, cara creatura che useremo le mie palette. Tanto tu le hai già viste, sai già che colori ho. E' proprio quello che stavo pensando. Questo solar qui. O l'ARP. Per fare, io direi, solar. Fare quei dettagli dorati. Che impreziosiscono un po' il tutto, ecco. Sì, come va se io con questo make-up, non so se sembra diverso o quale al solito, ho usato questa che una mia creatura mi ha regalato, questo campioncino di Lancome. E mi trovo, mi sono trovata davvero bene, l'ho provata oggi per la prima volta ed ha, sembra ancora più un effetto naturale. Vero? Cioè, boh, mi piace molto. Easy. Con un cambio e un cacchio, dai, al solito make-up che faccio. Può essere. Comunque, creatura, stavo pensando di fare questa cosa. Te lo dico, poi dopo ne parleremo su Instagram. Siccome mi piace provare le cose, volevo prendermi l'ennetta per farmi, tipo, le lenticcini finte, perché ho visto che crea una specie di contouring naturale e quindi volevo provarlo anch'io. Quindi prenderò su Amazon l'ennetta e poi lo proveremo in un video, casomai oppure provo da sola. Però se vuoi che proviamo in un video, dimmelo qui così, prima di farlo da sola lo proviamo nel video. Speriamo bene, insomma, perché dopo siccome tra un po' finisco di lavorare perché scade il contratto, sì, lo so cento volte, ma questa volta è vero. Allora ho detto, vabbè, visto che avrò un periodo in cui cercherò lavoro e non farò nulla se non cercare lavoro e studiare. e quindi vorrei fare delle cose che poi dopo forse non potrò fare o forse sì perché magari si fa un look un po' naturale si può fare perché magari la gente non so ne ha cose che ne hai fatto tu. Ecco. E quindi, niente, iniziamo. Tu hai già pulito il viso? Già a posto. Andiamo direttamente con questa, allora. Così la faccio provare anche a te perché a me piace quando sperimentiamo le cose insieme, anche quando assaggiamo delle cose insieme e quando proviamo a fare questi sperimenti insieme che così mi sento meno sola e se sbaglio qualcosa almeno tu mi puoi aiutare perché ne sai una più del diavolo, creatura. Una più del libro. Non so se si dice anche così, ma mi pare di sì. Allora. Ne basta davvero poco, poco. Allora, no, no, creatura. È marcia. Non marcia, effettivamente, letteralmente. Però, guarda, io non te la do questa. Cioè questa notte la, te la spiaggi con faccia. Quella che uso io l'ho lavata mille volte ed è tutta, si sta disintegrando, decomponendo letteralmente. E questa notte la volevo spalmare col pennellino. Sì, esattamente. Sarà lo stesso pennellino che userò poi anche per farti il blush. perché mi trovo bene con questo, con questa forma. E vabbè, mi prenderò dei nuovi pennelli. Cosa vuoi ti dica? Sicuramente mi prenderò una nuova Beauty Blender. Lo so che l'ho già detto in altri 47 video, ma prima o poi succederanno. Pensi anche tu, creatura. Non sto aspettando che qualcuno me la regali. Tipo tu. Da me veramente me la comprerò. Cioè, guarda, non sto incrociando nulla. Lo prometto. Ok, allora. Te le spiaggi con un po' sul viso, così. E te la vado a spalmare con questo pennello. So che tu sei estremamente contrariato a questa cosa, ma vuoi o no che ti trucchi io? Eh, ok. Allora lasciami fare. A me lo sai che poi dopo sembra tutto strano, ma poi dopo tutto funziona alla fine. Esatto. Sì, molto cremosa. Senti anche il suono. Non è basta. Allora, quando la metto sul viso sembra che ho detto troppo poca. Invece no, si spalma molto bene. Eh sì, ho visto. Anch'io ce l'ho sempre secca qua la pelle. Sì, l'ho provata con lo scrub. Che ti ho fatto vedere tra i regali di Natale che ho ricevuto. Buonissimo, buonissimo. Al bacio. Ma lo rifarò comunque perché ho già perso. Cioè, ho già la pelle secca qua. Ma l'ho fatto solo una volta. Il nasino. Ok, adesso. do una pulita a questo pennello. Perché poi si deve mettere anche il blush. Allora. No. Ma no, non ne hai bisogno. Cioè, non ne hai bisogno. Correttore. Vuoi dove lo metto che non hai bisogno? Sei bellissima. La tua pelle è perfetta. Già che ho messo il fondotinta, mi sembrava. Ma cosa stai dicendo? Vabbè. Ok. Te lo metto solo perché sta insistendo. Ma secondo me non hai bisogno del correttore. Che poi questo in realtà è tipo... Una base... Per l'ombretto. Ok. Va bene. Come vuoi tu. Andiamo a compromessi, d'accordo? Va bene. Lo accetto. Facciamo come vuoi tu per adesso. Mi metto un po' qua. Un po' lo spalmiamo. Ma sei sicura, creatura? Sei sicura al 100% di questa tua affermazione? Vabbè. Io adesso faccio come voi due. Però... Continuo a mentare, ok? Ok. Decido, eh. No, basta. Non ti metto altro. Hai detto tu che vuoi che te lo spalmo conquista? La tua libera scelta, io avevo detto che non l'avrei fatto, però tu insisti tanto e quindi lo farò solo perché insisti su due. Sopilo. Guarda, guarda. Guarda. Cioè, guarda. No, vabbè. Sei pazza. Creatura, tu sei proprio pasta come me. Pazza, 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 pazza. Pazza, pazza, pazza. Già finito. Vabbè, cioè, non hai bisogno di correttore. Quindi, chiaro, che vuoi non neanche il correttore, però hai voluto tu, quindi... Vabbè, non è che si cambia. Non vedo molto cambiamento da prima, però se tu sei felice e ti senti bene così, va benissimo. Allora, direi di partire con il disegno della maschera in sé, ok? Perché... Giusto? Abbiamo dimenticato il blush. Ma vuoi anche l'illuminato? Lo mettiamo alla fine? Lo mettiamo subito, papi? Mettiamo il blush. Ok, ce l'ho, quello classico, quello orpesca, che è quello che ho io addosso. Va bellissimo. Va bellissimo. Ok. Ok. Fai così. Così vedo bene dove sono le tue cote. No, non ho ancora messo le unghie finte. Perché mi devo fare arrivare la colla. Sì, dicevamo, l'illuminante. Io di solito lo metto in modo modo easy con il dito. Ma per te posso proporti questo pennellino che secondo me è la cosa più soffice dell'universo. Fa anche un po' solaticchino. E so che adori il mio illuminante unicornoso. questo olografico. Questo olografico. Quindi ti metto questo. Facciamo un po' pat pat sopra. Allora, su Nazino. è vero che fa un po' solaticchino. No, sì, non so quello solaticchino. Ti sto facendo un po' di chimica. No, sì, non lo solaticchino. Sì, sì. Allora, metti un po' qua così. Va bene? Ok. Dall'altra parte. Ok. Poi qui qui fa solletico. No, senti. È solletico. E qui che tu hai molto più labbra di me. Sì, non ridere. E a me piace messo la scuola. Secondo me è inutile che te lo fa bene. e lo metto anche qui. Perché dato dopo andiamo a coprire. Vabbè. Mettiamolo lo stesso. E qui. Vediamo. Muoviti un po' che vedo che si prelucica tutto. Perfetto. Ok. Allora andiamo con il disegno della maschera che sarà molto easy. La mia domanda è questa. Tu preferisci che sia un tipo partendo da qua rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu e viola oppure che sia simmetrico ovvero rosso, arancione, giallo, verde, finito. Cioè tipo la sfumatura dell'arcobaleno o simmetrico che così ha gli stessi colori. Troppo difficile come domanda creatura. Vuoi che te la rispiego? Ti faccio un disegno. Hai capito? Però non sai quale scegliere. ma lo devo fare attento se scelgo tutto io. Allora diciamo che se lo faccio simmetrico viene una cosa più diciamo forse anche elegante invece quella là è proprio a bandiera. facciamo simmetrico allora va bene? Perfetto. Sì forse la bandiera era un po' più banale si può definire così. Allora partiamo io parto con il rosso di solito quando disegno gli arcobaleni parto con il rosso quindi partiamo con il rosso mi sembra ottima sì allora partiamo con il rosso vado a fare esattamente lo stesso disegno sia a destra che a sinistra con lo stesso colore va bene? Sì ti descrivo perché tu non ti stai vedendo e tutto con lo stesso pennello così poi si sfuma mettiamo l'arancione allora se faccio anche dei chiricori all'interno prova a immaginarlo seguendo la pennellata sul tuo viso ovviamente faccio la cerco di fare l'esatta forma però ovviamente fatto a mano non verrà mai uguale diciamo più o meno la stessa cosa dall'altra parte andiamo con il giallo c'è un te letto rotolo fuori non so se le senti cinquettano cinquettano puoi chiudere gli occhi sono a rischio di accecarti grazie allora andiamo di verde verde lime però dopo lo sfumiamo con un verde no ma tanto dopo facciamo un verde verde erba dai verde con un compromesso che sia un po' chiaro anche non troppo né chiaro né scuro ok ok gli occhi chiusi grazie ok adesso facciamo azzurro sì sì forse vorrò dei colori in più ma chi se ne frega io voglio fare una bella suvattura ok sfumiamo bene ok adesso faccio blu userò neptun molto bello questo blu ok è il penultimo colore questo molto bello e adesso andiamo di viola sono indice tra il cosmic e lo spiral il cosmic è più è viola ma semplice un violo scuro molto bello non troppo scuro invece lo spiral è un po' olografico devo dire ha delle sfumature vabbè ho capito spiral siccome tocco finale centrale poiché dà anche quell'effetto un po' tanto dopo dopo vedi dopo vedi allora se non spirano si puoi tenere gli occhi aperti qua vado sul naso quindi non c'è problema il pelle sta venendo da dio non ho mai visto un make up così cosa ci siamo inventate oggi creatura ti stai anche rilassando mi fa piacere ok io adesso direi di andare di micro pennellino questo qui è un po' spennacchiato si andiamo col dorato a fare dei dettagli micro sottili super che danno quel tocco lì che solo chi magari ti guarda attentamente nota oppure magari se fai qualche foto ok molto eleganti certo ok adesso chiudi gli occhi stai fermo ok ok va sull'etico non c'è bene se per fortuna che non va sull'etico così stai fermo stupendo stupendo veramente no questo è un profumo ma adesso sei venuta qui per il make up non per spruzzarti il mio profumo no te lo faccio non so buono vero e ho scoperto che al little come ci avevo detto sui stai ci sono i profumi tube delle marche famose io ho preso questa che è il tube di coco mademoiselle costa tipo neanche 5 euro si infatti ma è buonissimo quale che volevi tu ah non so se c'è sai ho cercato ho visto sempre su tiktok ma ci sono anche dei video su instagram così anche chiaro facchetti mi pare aveva fatto un video su un un reel su instagram dove faceva vedere però dell'aurospin c'era alienage si il profumale si ti piace quello ma hai già pensato a come ti pettinerai una conciatura o resti così carino mi piace ci sta ci sta ci sta ok mi piace mi piace mi piace mi piace vabbè allora ti farei tante foto ho fatto l'ora di vederle sei molto brava a fare le foto si ah ma anche se sono semplici i selfie sono molto belli si ti seguo sempre su instagram tu mi segui si è che ti è splendente ok ah quindi mi lascerai un bel like grazie mille mi fa piacere di averti fatta rilassare io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura